L'annunciato messaggio di Roger Waters, leader dei Pink Floyd, che avrebbe dovuto introdurre il monologo di Ruella Cerebral contro la violenza sulle donne, non è mai apparso ieri a Sanremo, 4 febbraio 2020, sparito tutto ad un tratto, senza alcun preavviso, senza alcuna spiegazione di sorta. Anzi, anche una spiegazione ha provato a chiederla, non è arrivata alcuna risposta ufficiale. Per il momento è questo da come si raggiunge sul web. Il mistero ha reggiato e potrebbe essere risolto durante la conferenza stampa che ci sarà oggi, in mattinata, in mattina. Secondo alcune fonti, il video messaggio sarebbe saltato per problemi a livello di scaletta, che saranno però disvelati oggi, in mattinata, per la conferenza stampa, ma per altri sarebbe stato un problema di natura tecnica. Vi ringrazio per l'ascolto, fatto sta che il mistero ha reggiato e non poco a proposito del video messaggio di Roger Waters, che anticipava o meglio doveva introdurre il monologo della bella Ruella Cerebral sulla violenza, o meglio contro la violenza sulle donne. Un saluto caro D'Aleandro, un narratore italiano, iscrivetevi al prossimo video.